Polifemo il Fattaccio è nella città vecchia di Taranto, nel borgo antico, precisamente in via San Martino. Siamo qui a distanza di due anni, dedicammo un apposito servizio nel 2019, proprio perché abbiamo affrontato la situazione del signor Edoardo Gallina, che è alla mia destra con la consorte, assegnatario di una casa di proprietà comunale. Il signor Gallina ha una figlia disabile e ovviamente esistendo delle pesantissime barriere architettoniche diventa impossibile ogni forma di spostamento, ma si aggiunge la problematica che il signor Gallina purtroppo è affetto da una patologia oncologica, per cui è stato anche operato e sottoposto a chemioterapia. Alla mia sinistra Ugo Lomartire, presidente dell'Associazione Politica Grande Taranto, e Lomartire già due anni fa intervenne su questa situazione, ma chiedendo l'assegnazione di un altro immobile, di un altro appartamento, ovviamente privo di barriere architettoniche. Lomartire, dal 2019 ad oggi nulla è cambiato. Nulla è cambiato, c'è una situazione veramente molto grave dal punto di vista della salute, perché c'è una ragazzina con problemi di disabilità, purtroppo si è aggiunto anche il problema della situazione di salute del signor Edoardo Gallina, che sta facendo la chemioterapia. L'alloggio di cui parliamo è un alloggio su quattro livelli, con barriere architettoniche, perché è al secondo piano, e l'alloggio stesso è su due livelli. Quindi parliamo di quattro livelli, una situazione assurda e inaccettabile per delle persone che hanno problemi di salute. Quello che io chiedo a grande forza, con forza e determinazione, il cambio di alloggio affinché la famiglia Gallina possa avere un alloggio su un unico livello e che possa essere nelle condizioni questo alloggio di ospitare la famiglia Gallina senza ulteriori problemi. Perché questa situazione, tra l'altro, l'avevamo ampiamente denunciata due anni fa, non due giorni fa, non due settimane fa, non due mesi fa, due anni fa, e non hanno fatto nulla come amministrazione comunale. Io ho la totale non condivisione della maniera in cui si amministrano questo tipo di problemi, perché un problema del genere doveva essere già abbondantemente risolto. E il fatto stesso che noi ci ritroviamo qui, nello stesso posto, nella stessa situazione, a distanza di due anni, e un problema del genere non è stato risolto, per me ha dell'assurdo e del vergognoso ed inaccettabile. Quindi io chiedo a grande voce, con forza e determinazione, che la situazione della famiglia Gallina venga immediatamente risolta, immediatamente e con grandissimo ritardo, perché quando anche la risolvessero oggi con grandissimo ritardo, io faccio vedere quella che è stata la domanda che abbiamo fatto vedere nel 2019. La domanda del signor Gallina è del 2017. Quindi nel 2017 sollevava la sua situazione di estrema gravità in cui si trovava, ecco qui il documento, in questa situazione e con questa richiesta fatta nel 2017, che cosa è cambiato? Assolutamente nulla. Quindi bisogna intervenire, bisogna fare sì che ci sia un cambio. Altre persone che non hanno problemi di disabilità possono avere questo alloggio in cambio, oppure la famiglia Gallina può andare in un appartamento dove o c'è l'ascensore, oppure su un unico livello. Senza barriere architettoniche. Senza barriere architettoniche. Passiamo al signor Gallina, che è il triste protagonista purtroppo per lui, e io dico per tutti, perché poi è una brutta situazione, che dà una brutta immagine di Taranto. Dicevamo, signor Gallina, oltre alla problematica di invalidità di sua figlia, purtroppo il male che l'ha colpita e rispetto al quale ovviamente le auguriamo di uscirne alla grande, un appello affinché si possa ridare dignità a chi soffre, a sua figlia e anche a lei. Io sono andato più volte al Palazzo di Città per essere ricevuto dal sindaco e non me l'hanno mai fatto salire sopra, perché dice il sindaco non riceve. Lo volevo spiegare, anche con mia moglie. I vigi mi bloccano sempre, mi danno l'indirizzo di me che io non lo so usare. Come faccio io a parlare? Però ora il discorso è molto semplice, noi ci rivolgiamo al sindaco e in particolar modo all'assessore al patrimonio, per quanto riguarda l'assegnazione di questi immobili. Ora c'è una presa di posizione, una denuncia esplicita, una denuncia giornalistica, nel senso che c'è una situazione grave per un disabile, anzi per due disabili, e bisogna intervenire assegnando un altro appartamento. Non si sta chiedendo un favore, ma il rispetto di un diritto. I nostri diritti, perché... Lei è la signora Gallina, la moglie di Edoardo e la mamma della bimba, della bambina disabile. Noi siamo delle persone umili, non vogliamo nel più nel meno, vogliamo che si rispettino i nostri diritti, perché avendo una ragazza con disabilità gravi, gravissime, con adesso in un anno, a parte malattia rara, in un anno si sono subentrati pure crisi epilettiche. Se mia figlia, scendendo le scale, cade e si rompe la testa, gli succede qualcosa? Ma anche per il signor Gallina, vista le condizioni, non ce la fa a salire? No, adesso, come sto adesso, neanche questo ne sta a salire. Anche perché parliamo di un... ecco, prego il nostro operatore, guardate, è un gradino altissimo. Se mi domande di mettere un gradino qua all'epoca, niente. E io la capisco perfettamente, signor Gallina, perché ricordo anche il dramma di mio padre, morto di tumore, che si ridusse al punto che non poteva purtroppo fare un gradino, nel modo più assoluto. E allora... Non mi portavano in dita, adesso neanche la macchina più posso portare. Per concludere, Lomartire, un appello, perché questa è una battaglia di civiltà. Sono dei diritti di legge che hanno queste persone, perché non stanno chiedendo né piaceri né favoritismi, ma stanno chiedendo un diritto di legge. Noi sicuramente ritorniamo sull'argomento. Nell'eventualità in cui non si dovesse risolvere, ci aggiorniamo a breve e continueremo fino all'infinito a denunciare a grande voce, con forza e determinazione, questa situazione che è assurda e inaccettabile fino a quando non si risolverà la situazione della famiglia Gallina. Grazie a tutti.